Ragazzi, eccoci qui, Monza-Milan e sono anche parecchio raffreddato, non si sente? Nooo! Molti mi hanno chiesto se sono tranquillo stasera, cioè io posso anche essere tranquillo, solo che cambia veramente di poco. Ripeto, il passato recente del Milan ha fatto così tanto male, che non servono due partite con Torino e Monza per farmi cambiare. Quando guardo il Milan, anzi, sono partite che insieme a diverse che non abbiamo vinto recentemente andavano vinte, quindi sono anche abbastanza scoraggiato vedendo quello che abbiamo passato. C'era veramente un trofeo che bastava vincere giocando una partita e non l'abbiamo vinto. L'unica cosa che potrebbe farmi sorridere è arrivare ai quarti di Champions League, cosa non così impossibile, ma del resto, ragazzi, per me si può anche chiudere il capitolo. E passare la prossima stagione. Mi dispiace, però è andata così. Caro Pioli, c'era un mese dove tu dovevi dare tutto, era gennaio, non hai dato un cazzo e adesso siamo messi così. Che c'è da fare? E tra l'altro oggi è stata una giornata anche abbastanza calda, mi sono messo nello studio, si congela. Purtroppo questo studio, ragazzi, è tanto bello perché è una stanza proprio a misura di studio, cioè io l'adoro. È stato il mio sogno per anni avere una stanza così tutta per il gaming, dirette e cose varie, solo che, ragazzi, passa da un estremo all'altro sta stanza. Ci si cuoce, perché, ragazzi, se andiamo a ritirare fuori le live reaction di agosto, settembre, sudavo più di quelli in campo. Se prendiamo quelle da gennaio un po', ragazzi, è un freddo unico qua dentro. Boh, è dieci partite che ogni partita sento un nome nuovo per gli arbitri, che è, oh, domani vado io a fare l'arbitro. E viste certe decisioni che vengono prese, potrebbe anche starci. Inizia, perfetto, abbiamo l'arbitro stronzo che tira fuori i cartellini, comunque, boh, vedete di non fare com'è Lecce. Tutto qua, che vi devo di? Oh, che cazzo è? Bravo, bravi, 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 beh, bello, subito dalla svista, così, pallano in pallata da Krunic, quel mongoloide di Messias, che è più ritardato di non so cosa. C'è la prima giurria, Tataruzano miracolosamente la para, stranamente ha cominciato a parare quando è rientro di Meignan, si è avvicinato. Non è che potevi parare quando eri utile, no. In un minuto e venti abbiamo già fatto fare due tiri pericolosi al Monza, normale amministrazione per essere in Meignan, tranquilli. Brahim, viau, vai, continua a fare il coglione, continua a fare il coglione. Sì, va, va bene, va bene, continua a fare il coglione, vai. 9 milioni all'anno, vuoi, di calci nel culo. Mamma miau, Righi. Mamma miau, ma che giocatore di merda che sei. Madonna, quanto fai caccare il cazzo. Oh, buono, invece. Sì, ecco, ti sei recuperato palla e hai fatto un'altra cagata. Bravo, bravo, bravo. C'è Izzo, te l'ha anche data. Sei veramente un fenomeno, Righi. Ma perché? Perché la palla è rimessa laterale? Perché? Fate bene un nervoso che veramente tu mori, ragazzi. Un tipo è rompe un'altra volta. Ma rompiti un'altra volta, per favore. Se devi giocare così di merda, rompiti un'altra volta. Madonna. Oh, è fallo. È fallo. È fallo. Sto arbitro qua ha rotto il cazzo, eh. Ha rotto il cazzo quest'arbitro. Guardate che a me piace essere onesto, perché mi piace essere onesto. C'erano un paio di cose che ha fischiato a noi che non doveva fischiare. Devo essere onesto. Poi se a Mesa non fischia più. Ma che cazzo è sto qua? Dove li raccattano questi arbitri, oh? Cioè, Tataruzano non fa due clean sheet di fila da quattro anni da quando giocava nel Nant. Cioè, vi rendete conto che quando mi dite Ma non devi addossare tutte le colpe a Tataruzano. Non puoi. Non puoi non addossargli le colpe. Se è quattro anni che non fa due clean sheet di fila. Quattro anni, eh. Cioè, io penso che tutti i portieri che sono in serie abbiano fatto due clean sheet di fila Almeno una volta negli ultimi due anni. Vi rendete conto? Chi cazzo abbiamo squadra? Che il portiere titolare sarà sette mesi infortunato. E noi non ci siamo manco mai preoccupati di avere un buon secondo. Altra cazzata di tomori. Le ho che... Ma perché? Ma perché? Perché? Ma dammi un motivo! Ma dammi un motivo, cazzo! Dammi un motivo! Oh, che palle! Ma mi importa un cazzo se ho preso il pallone! Ma che cazzo tiri di lì! Come contro il Torino, come in Coppa Italia, 36 palloni in tribuna! Ma perché? Cazzo! Nali, Leao. Ecco la cazzata. Ecco la cazzata. Era pure fuorigioco. Cioè, ha fatto un cross di merda ed era anche un fuorigioco. Bello! Sublime, quasi dantesco. Sì, ha fatto un ali. Che cazzo fa? Che cazzo fai? Che cazzo fai? Mamma mia, non vi sopporto più! Io non vi sopporto più! Vi giuro che io non vi sopporto più! Io non vi sopporto più! Mi sarei troppo sul cazzo! Cambio di gioco, sparato e rimesso laterale dove non ci può arrivare Ternandez. Io non vi sopporto più, giuro! Siete riusciti a prendere 5 gol dal sassuolo? A perdere 2 derby in 2 settimane? Avete fatto le cose più eclatanti della storia! Avete fatto in un mese! Io non vi sopporto più! Eh ma l'importante è che i tifosi stiano accanto alla squadra! Stiano accanto alla squadra! Dopo 5 gol dal sassuolo chiede anche ai tifosi di stare accanto alla squadra! Avete capito cos'è che fa ridere? Dopo 5 gol dal sassuolo chiede ai tifosi di starci accanto! Ma io vi starei davanti a prendervi a schiaffi a tutti! Cioè per rimediare sta cosa del sassuolo dovete vincere una Champions League almeno! Messias, vediamo la cazzata! Leao! Che tira ovviamente! Cioè avete capito che portiere di merda che ha il Monza? Che portiere del cazzo! Leao fatto un tiro ancora peggio! Mamma mia quante azioni sprechiamo! Quanto vomitare si fa! Mamma mia! Siamo semplicemente obbrubriosi! Ecco cosa siamo! Eh sì vabbè! Ha detto ciao! Ciao proprio! Cioè io non so se vi è chiaro che in 25 minuti non abbiamo ancora fatto cura al Monza! Che ha tirato due volte al primo minuto e poi è sparito dal campo! Tu hai avuto tre occasioni ghiottissime e le hai tirate nel cesso come sempre! Come è tuo solito perché il Milan prima di fare un gol! Giustamente ne deve sprecare 84! Sempre! Sempre! Da una vita! Da una vita! Fernandez è dentro! Tomori! Niente! Non ci si fa a far go ragazzi! Certo che si è mal di avanti il portiere Tomori! E ti becchi questo! Mi pare anche coerente! Ecco no! Potevamo battere subito! Adesso stanno vedendo al VAR un rigore che non c'è! Che non esiste! Che un contatto che si sono inventati! Non c'era un cazzo! Facci battere coglione! Niente! Val VAR a veder le favole sto qua! Rich le hao! Cioè guardate come stanno alti sti qui! Guardate come stanno alti! E le hao perde palla! Sei un grandissimo coglione! Sei il coglione numero uno! Sei il coglione numero uno! Sei il coglione per antonomasia sei! Sei il coglione! 9 milioni vuole lui qua ragazze! 9 milioni per fare così! Caru, metti un cross a moto! Manco quello! Manco il cross! Poi Messias! Gol! Gol di Messias! Le hao sei un coglione! Sei un coglione! Sei un coglione grosso così! Che lo devono portare con la gruda! Quanto sei coglione! Madonna quanto mi stai sul cazzo! Te e tutta la squadra di merda che si è diventata! Guarda lì! Va a far gol Messias! Va a far gol! Va a far gol Messias! Va a far gol! Milan interpreta la partita e cresce costantemente! No! Te devi giocare bene dall'inizio! Forse non hai capito! Devi giocare bene dall'inizio! Se no poi succede quello che ti è successo nell'ultimo mese! Non capiscono un cazzo sti qui! Un cazzo! Vai contro l'Atalanta! E cresci durante la partita! Vedi se quando sei ufficialmente in partita non ne hai già presi tre o quattro! Vedi! O la Fiorentina! O l'Udinese! Guarda! Facile fare fenomeni contro le squadre che hanno un attacco ridicolo come il Monza! Che non hanno un attaccante manco per sbaglio! Facile fare fenomeni con loro! Fateli fenomeni contro l'Atalanta che manca poco eh! Perché manca poco! Giallo per cru! Cosa cazzo? Giallo? Viene travolto messi a Sobreniaz! Che cazzo era viene travolto? Dà il vantaggio perché questo era un fallo tattico! Proprio che più fallo tattico non poteva essere! Ovviamente perdiamo palla perché noi se non perdiamo palla non siamo contenti! Giallo plateale per Pablo Mari! Che succede lo dà a Krunic! Ma chi cazzo te l'ha fatto fa l'arbitro? Chi cazzo te l'ha fatto fa? Cioè ma non è un dovere fa l'arbitro! Ma che cazzo arbitri ha fa? Coglione di merda! Bravo Tonali! Adesso lo ammonisci! Lo ammonisci! Lo ammonisci il numero 6! Chi cazzo è Rovella? Lo ammonisci! È fallo tattico cazzo! Le basi! Rapuano di merda! Le basi! Le basi! No! Ammonisci Krunic! Perché ha fatto un intervento su un retro passaggio! Avete capito la qualità degli arbitri in serie? È a cazzo! Io sempre più schifato del calcio che è diventata una cosa inguardabile! Ma non è il calcio in generale è diventata una merda! Una merda! Sei rotto Ricky? Alleluia! Almeno fa fuori dal cazzo! Vi prego! Rompetelo per favore! Almeno esce dal cazzo! È uno sbocco di giocatore sto qua! Fischia sta fine! Fischia sta fine! Oh dai! Iniziato il secondo tempo ragazzi! Che roba! Che roba! Che dire! Mi si è sversato tonali! Dentro! Mamma mia! Cioè il Monza ragazzi non riesce a uscire dalla propria metà campo! E noi nonostante tutto stiamo facendo cacare! Da lì! Il Marlon è la quarta volta che anticipa Leao! 9 milioni! 9 milioni! 9 milioni! 9 milioni Rafa! 9 milioni! Ma sì dai che i soldi crescono sugli alberi Leao! Sì! I soldi crescono sugli alberi! 9 milioni per giocare così! Sì! Certo! Bravo! 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 Petagna! Meno male ha tirato centrale! Mamma mia! Mamma mia! Che cosa sto vedendo? Mamma mia! Messias avrà anche fatto qualma rimane! Una pippa assurda! Una pippa assurda! Ma che cazzo di giocatori ci abbiamo! Che giocatori di merda! Che giocatori di merda! Mamma mia! Ecco! Simulazione godo! Simulazione godo! Birindelli godo! Però devo ammettere che quando ho sentito il fischio mi sono cagato addosso! Quello sì! Cioè meglio chi è il razzoppo che tu mori ragazzi! Cioè dopo 56 minuti stai vincendo una zero a Monza con gol di Messias! Mamma mia! Cioè! Quando ci ripenseremo tra qualche anno ci verranno i brividi alla schiena giuro! Cioè è come quando si vinse a Bologna con gol di Kuzka! Uguale! Buono! 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 Ci batte Hernandez di far gol! Fuori dai coglioni! Fuori dai coglioni! Fuori dai! Ternandez fuori dai coglioni! Cioè io ho delle partite che tu dico che devi andare fuori dai coglioni! Ci ha fatto un pallonetto! Fuori dai coglioni! Ternandez vai fuori dai coglioni! In tre contro il portiere! E non avete fatto gol! Cioè ma vi rendete conto di quanto fate caccare il cazzo! Perché non esulti ai gol? Perché no! Perché no! Perché io prima di un gol e vedo 44 sbagliati così! Per questo non esulto! Per questo motivo! Perché abbiamo delle teste di cazzo in squadra! Delle teste di cazzo! Cioè vi rendete conto che quando giocheremo contro l'Atalanta! Che manca poco! Delle occasioni così non te le concede 90 minuti! E tu sei stato capace di sbagliarle! Ma ci rendiamo conto! Cioè ma davvero raga! Davvero! Davvero! Mamma mia che schifo! Entra Giru! Ok! Cioè fanno rifiutare una volta sto Cristo no eh! C'è Ibra! C'è Ibra! No! Non lo vogliono! Giru bebe! Leao fermo Giru che passa la palla così della serie la devo dar via se no me la tolgono! Cosa sto vedendo ragazzi? Ma il circo! Crevonice la dà per te Hernandez che tanto sbaglierà! No! Finisce a terra e si deve rialzare! Perché è un coglione che non tira! Cioè tira sempre! Stavolta dove tira un tira! E' un coglione! E' un coglione! Ternandez è un coglione! Fa due partite bene! Ternandez è tornato! E' tornato! Ternandez! E poi! Stasera è da prendere a schiaffi! Stasera Ternandez è da prendere a schiaffi nel muso! Venga grande partita di Kronic! Leao! Leao! Sinistro! Vabbè! La prossima volta tira da fuori lo stadio! Fai prima! Della serie mi pesa il culo tirare ma lo faccio! Lo stesso! Bravo! Avevo appena detto che stavo giocando bene! Vai! E' finita! Un intervento di Tomori! 70 minuti! Per fare una cosa giusta! Tomori ti meriti l'applauso! Leao in difesa! Perchè ha capito che Tomori nel 2023 sta giocando! La mette giù! Vuole andare per il sinistro! Colpisce il palo! E poi il rimpallo su Tata Rusano porta il calcio d'angolo! Pallo clamoroso! Pallo! Schiena di Tata Rusano un pallo fuori! Sto qua era un autogol! Ma si può rischiaccolmo! Monza! Si può rischiac... Non si può rischiaccolmo! Non si può! Non si può rischiaccolmo! Non si può! Non si può rischiaccolmo! Non si può! E' andato Leao in difesa perchè ha capito che Tomori sta giocando a livelli di Bonera! Perché questo è il punto Cioè nel caso vincessimo Sarebbe il terzo 1-0 di fila Perché il 2-0 non lo farai mai Bravo le catene per Giroud Leao Oh ma Che ha nella palla Giroud E leao niente Continua a far vomitare quel figliolo Continua a far vomitare il cazzo quel figliolo Continua a fare schifo alla minchia quel figliolo Baccaio cu Sério Mette Ribra ti faceva schifo Che poi c'è mette Baccaio cu Cioè ieri Stefano Pinoli Franks sta bene E' bravissimo Si fa male Krunic Giustamente mette Baccaio cu Capite come ragiona sto qua Tonali che si complica la vita La palla di Tonali Saleme Akers De Kettler Non credibile ragazzi Incredibile Non ce la fa Fargo A porta vuota Mamma mia Ma che gol sbaglia Ma che cazzo di gol sbagliamo ragazzi E poi se lo prendi Te lo meriti De Kettler c'è Ma c'è Repic Passala Tanto gol non lo fai Passala Mi avete rotto il cazzo Mi avete rotto il cazzo tutti quanti Ma avete frantumato i coglioni Mi avete Non vi sopporto più Io ho un mese che ve lo dico che non vi sopporto più Speriamo ci sia un altro mondiale a marzo Cioè l'organizzo io un altro mondiale a marzo Perché non vi sopporto più Girù Quattro sponde sbagliate E quattro falli Ho giocato meglio Baccaglio con cinque minuti Che tonali tutta la partita Pensate un po' Beh bravo Fa una cosa giusta Tomori Fa una cosa giusta L'appoggio lo fa di merda Madonna 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 Ma che cazzo c'abbiamo Un campo Che cazzo c'abbiamo Un campo La squadra dell'oratorio C'abbiamo un campo Cioè potevi anche finire l'azione Dato che hai fischiato cinque secondi Prima Coglione di merda Va bene Un'altra è andata Io non so neanche che partita abbiamo La prossima Già vi vedete conto che una volta Avevo il calendario scritto lì E adesso sto talmente rompendo il cazzo Che manco più lo tengo Giochiamo con l'Atalanta Appunto Domenica prossima Arrivederci